Argentina-Arabia Saudita diretta, ora la partita di oggi. Primo match del Mondiale per Argentina e Arabia Saudita che si sfidano nel gruppo C per cercare una vittoria che possa spianare la strada per il passaggio alla fase finale del torneo. La squadra di Scaloni sfiderà gli avversari con Lionel Messi in campo e Dybala in panchina. 10-20 Argentina, Dybala in panchina. La Roma tifa per lui Paolo Dybala si accomoderà in panchina per questa prima sfida del Mondiale. La Roma fa il tifo per lui, a Tregoria guarderanno la partita e i suoi compagni di squadra sperano di vederlo entrare in campo. 10-17 Argentina-Arabia Saudita, grande festa dei tifosi festa dentro e fuori dallo stadio, le due tifoserie festeggiano insieme prima della partita. 10-15 Argentina e Arabia Saudita allo stadio le due squadra hanno raggiunto lo stadio di Lusail. La nuova struttura che ospiterà anche la finale del campionato mondiale. Lusail si trova a circa 23 chilometri a nord del centro della città di Doha. Virgola 10-5 Argentina imbattuta con l'Arabia Saudita all'Argentina imbattuta in tutti e quattro i precedenti incontri contro l'Arabia Saudita, 2V2N, anche se questo sarà il primo incontro in assoluto tra le due squadre mondiali. Virgola 10 Argentina-Arabia Saudita, le formazioni ufficiali Argentina, 4-3-3, Dibu Martinez. Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Peredes, Papu Gomez, Messi. Lautaro, Di Maria. Arabia Saudita, 4-3-3, Al-Owais, Abdulhamid, Al-Tambakti. Al-Boleai, Al-Sharani, Al-Malki, Kanno, Al-Farai, Al-Sheri, Al-Burai Khan, Al-Dousar. Lusail Lusail Stadium. Primo match del mondiale per Argentina e Arabia Saudita che si sfidano nel gruppo C per cercare una vittoria che possa spianare la strada per il passaggio alla fase finale del torneo. La squadra di Scaloni sfiderà gli avversari con l'Ainel Messi in campo e Dybala in panchina. 10-20 Argentina, Dybala in panchina. La Roma tifa per lui Paolo Dybala si accomoderà in panchina per questa prima sfida del mondiale. La Roma fa il tifo per lui, a Tregoria guarderanno la partita i suoi compagni di squadra sperano di vederlo entrare in campo. 10-17 Argentina-Arabia Saudita, grande festa dei tifosi festa dentro e fuori dallo stadio, le due tifoserie festeggiano insieme prima della partita. 10-15 Argentina e Arabia Saudita allo stadio. Le due squadra hanno raggiunto lo stadio di Lusail. La nuova struttura che ospiterà anche la finale del campionato mondiale. Lusail si trova a circa 23 chilometri a nord del centro della città di Doha. 10-15 Argentina imbattuta con l'Arabia Saudita. L'Argentina imbattuta in tutti e quattro i precedenti incontri contro l'Arabia Saudita, 2V.2N, anche se questo sarà il primo incontro in assoluto tra le due squadre e i mondiali. 10-17 Argentina-Arabia Saudita, le formazioni ufficiali Argentina, 4-3-3, Dibu Martinez. Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Peredes, Papu Gomez, Messi. Lautaro, Di Maria. Arabia Saudita, 4-3-3, Alois, Abdulhamid, Altambakti. Alboleai, Alsharani, Almalchi, Canno, Alfarai, Alsheri, Alburecan. Aldousar Usail Usail Stadium. Citizens, Parjarati, Al Argali, Talousa,ickets. Aura,��, AWS, parabéns. Grazie a tutti